Musica Musica Sono Pina e vi parlo dalla gastronomia catalano che ci troviamo in Viale Mario Rapisaddi 646. Trovate tutti i piatti dalla tradizione siciliana, dalla carne al pesce, dai primi piatti ai contorni. In questo momento abbiamo in offerta il pollo a 4,90€, la pasta forno a 1,50€, siamo aperti da lunedì a domenica, potete anche pranzare qui, vi aspettiamo. Musica 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 dalle 8 di mattina fino a 19 di sera e trovate sempre nuove promozioni in questa lavanderia. Vi aspettiamo! Ci troviamo nella mia recepitoria di Giuseppe Cagnotte al Viale Mora Pisardi 253. Come nelle scorse puntate abbiamo menzionato i vari servizi, anche oggi voglio ricordare i vari servizi che abbiamo. Iniziamo dalla Sisal. Il servizio Sisal oggi ha la possibilità di avere diversi servizi, da giocare ai pagamenti con lezze, a tutto quello che riguarda ricarica post-pail e altri geni di prepagare. A oggi abbiamo inserito anche Matchpoint. Matchpoint le scommesse. Abbiamo delle quote, possiamo sviluppare tramite questo anche diversi sistemi e bollette anche simili. Vi ricordo che la nostra è una macelleria gestita a livello familiare e da noi troverete cortesia, gentilezza e soprattutto la qualità. Possiamo offrire il pacchetto Family con solo 19,99 euro. Il nostro pacchetto Family comprende un chilo di costate di maiale, un chilo di salsiccia, un chilo di tritato misto, un polpettone e un chilo di puntine di maiale. Grazie ad anni di esperienza e alla realizzazione di decorazioni e dobbi floreali per ogni tipo di evento, lo staff di Petali di Rosa saprà rendere speciale la scenografia delle vostre occasioni più importanti, proponendovi colori e composizioni in perfetta armonia con le vostre esigenze e con lo stile delle vostre ricorrenze. Per lo speciale evento del vostro matrimonio, i professionisti di Petali di Rosa gli offriranno idee e servizi esclusivi per la decorazione delle location, in cui si svolgeranno la cerimonia e il ricevimento, perché ogni dettaglio della giornata sia impeccabile e contribuisca a creare il set perfetto per il vostro book fotografico. Profumi, colori e design innovativi saranno i principali ingredienti che faranno dei vostri allestimenti floreali un particolare inconfondibile. Nel giorno più bello della vostra vita, scegliete Petali di Rosa. Viare Mario da Pizzardi, 283 Catania. Salve, sono Angelo Di Blasi. Mi occupo di fotografia. I servizi dei miei offerti sono dalla cerimonia di matrimonio al diciottesimo. Dispongo di una sala posa dove potete realizzare i vostri ritratti e book fotografico in genere. Vi ricordo che il mio studio fotografico si trova a Catania, in via dell'Oro 94A. Qui da smartphone, pc e notebook ricondizionati e come nuovi, a prezzi stracciati. Un esempio, Apple iMac 20 pollici, RAM di memoria 2 GB a 250 euro. Vieni a trovarci, queste e tante altre novità. Da smartphone, piazza San Luigi 15. Un marchio, una qualità. Dentro il materiale è il Liacril. Lavabine e lavatrice, asciugabili in un attimo. Lo stendo, signora. Il Liacril ha il potere di far scorrere l'acqua in un attimo, signora. Questo è per cani di grande taglio, come il cane della signora che ha un bellissimo dog di Bordeaux. O massino francese. O massino, dog di Bordeaux. In gergo massino francese. Le faccio 25 con tutto, tutto compreso, va bene? Avanti. Gli scondi solo da 4 zamberi facciamo. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, la D'Amico Gioielli offre ai propri clienti una vasta scelta di articoli di gioielleria e oreficeria. Concessionaria di marchi prestigiosi come Salvini, Giorgio Visconti, Davide Delucchi, Le Bebè, i Gioielli del Sole, Tutu e molto altro ancora, la D'Amico Gioielli è in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. Siamo inoltre concessionari ufficiali di Svaroschi, Miluna, Isola Bella, Morellato, Le Carose ed ancora di orologi come Filippo Watch, Citizen, Sector, Ferrari, Festina e Liugio. Da noi trovi anche articoli da regalo e cornici. Per la festa della mamma regala il ciondolo in edizione limitata Stella di Mamma di Le Bebè. D'Amico Gioielli dal 1984. Da Party Time è possibile festeggiare tutte le vostre ricorrenze, dal battesimo al novantesimo compleanno. Venite a scegliere il pacchetto più dotto a voi. Ci trovate a Catania, in via Generale Cascino 7, al 454 del Viale Mario Ravisardi. Musica Musica Nuovamente dal mio negozio di Cettino Svisterno del Viale Mario Ravisardi. Oggi vi volevo dire solo dei piccoli accenni su un taglio. Il taglio dei capelli si fa in base alla morfologia del viso, perché ognuno di noi ha bisogno di fare una consulenza sia tecnica che visiva, in modo da avere tutto ciò che corrisponde per il proprio viso, se un viso rotondo, se un viso triangolare, e fare un taglio non solo che quando esce dal perrucchiere è bello pettinato, ma un taglio che quando una si fa lo shampoo a casa è molto facile da asciugare ed è molto naturalezza. Soltanto questo. Io vi posso invitare a venire a provare il mio taglio e a vedere il mio metodo. Un metodo un po' differente, ma non perché non taglio con le forbici. Scherzo, taglio. La mia consulenza è il mio modo di tagliare. Con questo vi saluto, buona giornata. La mia consulenza è il mio modo di tagliare. No, non adesso ciò che viene rispetto. La mia consulenza è il mio modo di taglio. La mia consulenza è il mio modo di taglio. appena fatto, la mescelleria Peccate di Golo si è ampliata con il repatto gastronomico nonché polli allo spiedo, tante specialità arrosto, patatine e quant'altro, quindi vi vogliamo invitare a venirci a trovare per trovare le nostre specialità. Grazie a tutti Grazie a tutti